Spero che vi siate lavati le mani prima di ascoltare questo podcast, perché Nick e Loro mi hanno detto che non bisogna parlare di quella cosa che sapete, che sta decimando la popolazione mondiale, quindi non ne parlerò, ma questo podcast è chiaramente bruttissimo, di cosa stiamo parlando? Ciao Nick e ciao Norro! Cosa? Beh, io so solo una cosa, può bruciare l'Australia, può sciogliersi l'Antartide, ci può essere la povertà e la guerra, ma chi se ne frega se c'è un raffreddorone che gira. Ecco, giusto, giusto. In realtà l'unica cosa importante è cercare di capire quando la mucchina diventerà conio di Stato, tutto lì. Conio di Stato anche a Tenic. Comunque io ho mangiato solo due pizze nella scorsa settimana, quindi sono tipo un speaker medio di Powerpizza. Sei un po' un pusillanime della pizza, diciamolo. Sì, potremmo dire così. Un pizzillanime. Io invece devo dire che nonostante io cerchi di andare avanti nella mia streak di non mangiare le pizze australi, nella scorsa settimana ho mangiato due volte pizza, quindi sto perdendo e le pizze sono medie. Ma dici questa cosa ma poi la mangi sempre? Non sempre, a volte. Quale dovrebbe essere il tuo streak di non mangiare le pizze se le mangi sempre, scusami? Penso che fossero mesi prima che tu iniziassi a tirare fuori la cosa di chiedersi quante pizze abbiamo mangiato prima della puntata. E allora è potere della suggestione. E poi soprattutto tu non conti che Nick fa 100 pasti al giorno, quindi con due pizze è solo due centesimi di una giorno. Mangio come quei tipo roditori che non lo so, ci saranno di sicuro dei roditori che mangiano tantissimo. Tu hai mangiato tante pizze, Sio? No, purtroppo io continuo la mia dieta per la salute che purtroppo mi impedisce totalmente di mangiare la pizza ma la potrò tornare a mangiare molto presto. Che cacchio di dieta è per la salute? Eh, c'ho una malattia segreta e devo mangiare le cose senza mangiare i carboidrati. Ah, madò, la tua vita fa schifo, perché non ti sei ancora suicidato? Perché ogni settimana almeno ho Power Pizza da registrare, che è l'unica cosa letteralmente che mi tiene in vita. Ciao figlio, ciao. Oppalai che apro una confezione di Grissini, oh caspita, il primo è di Smack, perché lo voleva leggere Nick, invece glielo leggo io. Grazie. No, non è neanche vero, perché volevo solo dire che sia Francesco Fazzi che Smack ci hanno fatto notare che cosa, Nick? Ci hanno fatto notare che Suicide Squad, battute a parte, ha vinto davvero un Oscar. Uno di quegli Oscar tipo per la partecipazione. Ha vinto Hair and Makeup, io non me lo ricordavo, non lo sapevo, non pensavo fosse possibile. Dannazione. No, il mio cervello era riuscito a ignorare questa cosa. Allora, ci sta che sia l'Oscar per trucco e parrucco, però serve anche a ricordarci che nonostante la recente vittoria di Parasite, gli Oscar siano comunque una cialtronata in mane, quindi insomma è utile conoscere queste cose. Wow, ma io spero che ci sia un futuro in cui si tornerà a vendere le videocassette, i DVD e i Blu-ray in maniera prepotente e ci saranno tipo delle fascette sui DVD che dicono tipo, ah, il film che ha vinto l'Oscar, di Oscar winning Suicide Squad, eccetera, eccetera, e il mondo sarà triste. Ma sai che comunque il fatto che tu non li compri non vuol dire che tipo non si vendano, però comunque ok. Non so di cosa tu stia parlando, sono una di quelle cose tipo i libri che in realtà non esistono, voi mi allantate tutti di leggere ste cose, però secondo me ve lo inventate un po'. Allora sarai deluso in questa puntata. E comunque le fascette di cui parlavi sono le fascette che incollano sul DVD di Suicide Squad per impedire che sia leggibile dai lettori DVD, vero? Perché così non lo guarda più mai nessuno. No, la fascetta è larga quanto la copertina e copre il titolo. Non ci sono vincitore dell'Oscar per Hair and Makeup. Chissà che film sarà. You just got Suicide Squad, quando arrivi a casa ovviamente. Squadded è un verbo regolare. Squadded, scusami. Del nizionario, giustamente. Esatto, Suicide Squadare. È possibile che in questa confezione di grissini ci fosse quest'unico doppio grissino? O ne avete altri? Io ne ho uno in realtà di Cristiano Viacava, Q risata di Nick, per favore. Grazie. Che chiede, a quando una puntata speciale in cui i vostri ospiti toscani si sfidano potreste chiamarla Power Pisa? È molto una bella idea. Mi è piaciuta Power Pisa, però no, perché purtroppo io sono in quarantena. Vabbè, andiamo pure avanti. Per il pacifismo. Esatto. Esatto. Più che altro, tralasciando un attimo i grissini, so che tu avevi delle main news, giusto, Su? Avevo una piccolissima main news. Però poi cos'è successo? Però poi sono caduto e mi è caduta dalle tasche. No, allora, l'unica cosa che volevo dire è che siccome sapete benissimo che Power Pisa è, da qualche puntata fa, diventato anche un podcast di automobili. Cosa? Dopo che abbiamo parlato del Cybertruck, volevo avvertirvi che in realtà in questo anno del signore 2020, a dicembre esce dalla Hot Wheels, il Cybertruckino telecomandato. Oddio, ma davvero? Davvero? Sì, sì, sì. Quindi se non volete permettervi 30.000 euro per il Cybertruck... Cybertruck... Potete spendere 25.000. No, però costa comunque 400 dollari. Ah, ma no, ma è gigantesco, sto guardando adesso, cioè mi immaginavo tipo dimensione macchinina, invece no, tipo è dimensione macchinona. È dimensione macchinettona, praticamente. Però sì, no, ecco, questo è fine. Ma ci puoi mettere degli infanti dentro? No, aspetta, ce ne sono due. Ah, l'horro up istantaneo, ce n'è uno piccolo che costa 20 dollari e uno grande che ne costa 400. Esatto, che è quello che stavo guardando io, che è veramente gigantone, cioè tipo ci puoi mettere sopra un gatto e utilizzarlo come veicolo per il tuo gatto. Non so perché mi è venuta in mente questa cosa, ma ho voluto dirla. È una bella immagine. È una bellissima immagine, grazie loro per averci regalato questa immagine nella nostra mente. Questo è il potere delle parole, ragazzi. Andiamo pure avanti. Non c'è bisogno che sottolinei ogni cosa random, diciamo, però comunque grazie. Random, tra l'altro, è un prestito linguistico dall'inglese. Andiamo pure avanti. Cosa sta succedendo? Di che cosa volete parlare in questa sgargiante nuova puntata numero 81 di Powerpixel? Nick, hai qualcosa di cui parlarci? Visto che sei tu l'unico che ci ha detto... Io assolutamente sì. Ah, ok, vai. Vai. Allora, io vorrei parlare di Fleabag, ma non di Fleabag, la serie TV. E neanche di Fleabag, il termine che vuol dire sacco di pulci. Neanche di letterali sacchi di pulci. No, esatto. No, avete mai sentito parlare di Fleabag encore? Certo che sì. So tutto di Fleabag encore. Perché so le cose, non perché me le hai raccontato tu due minuti fa prima di iniziare a registrare. È giusto. No, allora, Fleabag encore è una cosa fighissima che la nostra super migliore amica della vita, Phoebe Waller-Bridge, ha fatto... Che non vuole essere associata a noi in alcuna maniera, ricordiamolo. Non è vero. Lei giura e spergiura che siamo molto amici e siamo close. No, praticamente, lei che cosa ha fatto? A seguito del fatto che la serie TV su Amazon Prime ha avuto un successo smodato... Quasi smoderato. Smoderato. Quasi smoderato, non abbastanza per essere smoderato, però ha deciso di riportare alla sua forma originale Fleabag, ossia il monologo che lei aveva portato inizialmente al festival, al fringe di Edimburgo, per un sacco di anni di seguito. Io non sapevo sta cosa. Lei nel 2013 aveva debuttato con Fleabag ed era andato male. Poi nel 2014 l'ha riportato ed era andato male. Nel 2015 l'ha riportato, eccetera. E non è stato fino alla fine del 2015, dato che poi lei man mano l'aveva cambiato e l'aveva migliorato, hanno iniziato a parlarle di portarlo in televisione con poi... c'è tutto quello che è successo con Amazon Prime. Comunque, lei ha voluto riportare la versione originale, il monologo in cui c'è soltanto lei sul palco seduta su una sedia fine a teatro e ha fatto questa serie di... Ah, teatro. Il cinema dei professoroni, diciamo. Il cinema delle persone lente che hanno il tempo da perdere, dove praticamente ha riportato questa cosa e l'ha fatta registrare ed è circolata all'interno di una serie di cinema in giro per il mondo, tra cui a Melbourne. Quindi io sono andato a vedermi alle 10 di domenica mattina, mi sono andato a vedere Fleabag Ancor, ed è incredibile. Sono contento, scusa, io stavo solo morendo di invidia per il fatto che fanno, cioè, tipo gli spettacoli mattutini da voi. Sì, ma tra l'altro non di tante cose. Questa era proprio una cosa particolare perché c'era solo la mattina e, tra l'altro, era difficilissimo già trovare i biglietti perché comunque attira un sacco di persone. Io volevo dire che Fleabag Ancor è incredibile, lei è pazzesca. Io riesco a capire chi abbia visto lei sul palco e abbia detto, io devo fare una serie tv da quello che questa persona sta dicendo. Dopo anni che la vedevano sul palco e dicevano, ok, no, questa cosa fa schifo. Esatto, beh, non so che cosa abbia cambiato, però rendere tantissime delle scene che poi sono nella prima stagione di Fleabag all'interno di un solo monologo in cui ci sono dei salti temporali che lei ti narra ma in cui ti inserisce senza veramente dire tipo, ah, adesso stiamo parlando di una cosa che è successa tre anni fa e poi adesso è incredibile, è bravissima. Non riesco a capacitarmi di quanto sia brava a rendere una cosa così complessa rompendo la quarta parete, parlando con il pubblico, parlando con delle voci registrate che sono fuori. È un'esperienza da vivere. Se c'è un modo di scaricarlo dal mare dei pirati o se c'è un modo di andarlo a vedere al cinema, per favore andate perché è veramente una cosa eccezionale. Lei è bravissima. Deve essere veramente bello perché non mi capita mai di sentirti parlare di qualcosa in in maniera così entusiasmata. Nick, io, allora, aspetta, io siccome sono scemo e non ho capito bene, cioè, tu hai visto al cinema una registrazione, non hai visto da live Phoebe? No, no. Phoebe ha fatto una run di questi monologhi in un teatro di Londra. Ok. E poi, però, tra l'altro, non c'è scenografia, non c'è nulla, cioè, è lei seduta su una sedia tutto il tempo. Fine. Adoro le sedie. Best cosa su cui appoggiarsi. Sì, sì. Comunque, è palese che anche Phoebe Gancor si meriti dieci fette di pizza con le sedie sopra a questo punto perché sono l'unica cosa che c'è sul palco. Tra l'altro neanche delle sedie uno sgabello. No, allora, aspetta un attimo. Gli sgabelli sono tipo le sedie peggiori che esistono. Esatto. Ma recensione degli sgabelli in una delle prossime puntate, scusa, vai avanti. Guarda che adesso me lo segno e se non lo fai te lo ricordo. Me lo stavo già scrivendo io mentre lo dicevo. Comunque è uno sgabello con un po' di schienale basso, giusto per tipo la zona lombare, quindi un po' ci sta. È un po' una sedia, è un po' uno sgabello. Mmm, lombo. Ah, e in tutto ciò, so che non è tipo una main news, ma è una cosa confermata di poche settimane fa, dato che tutti continuano a chiedere se ci sarà una terza stagione di Fleabag. Phoebe Waller-Bridge, sia nei comunicati stampa, sia con il portare di nuovo il monologo al teatro, lei ha detto non ci sarà una terza stagione di Fleabag. Ma è giusto così? No, no, ma infatti, ma anche perché la storia è conclusa, cioè giustamente vedendo anche da dove è partita la storia e come poi è andata a riempirla con altri personaggi e altre cose, ha tirato fuori tutto quello che poteva tirare fuori. Quindi nonostante sia stato un successo a livello infinito, non serve aggiungere altre cose per tipo... Allungare il brodo. Annacquare una cosa che è quasi perfetto, esatto. Boh, quindi brava Phoebe, sono contento di essere tuo amico. Ecco. Ok, molto bene. Questo mi ricorda che in questo momento sto proprio guardando un'altra serie di Phoebe Waller-Bridge perché ho avuto poi un po' di astinenza perché è venuta lì a trovare... Stai guardando Killing Eve? Non sto guardando ancora Killing Eve, ma sto guardando Crashing, che è una serietta che c'è su Netflix, di cui non vi parlo ancora perché ho visto pochissimo, però sicuramente nei prossimi episodi ne parlerò ed è carina per ora. Ok, Pizza Teaser. Pizer. Pizer. Sapete invece io cosa mi sono visto su Netflix, che non avevo idea uscisse su Netflix, nonostante ne avessimo parlato più e più volte. Star Trek Picard? No, ma il film di Dragon Quest. Ah, wow! Allora, da dove iniziare? Allora, intanto non mi ero informato minimamente a riguardo, sapevo che sarebbe uscito, ne avevamo già accennato, ma non avevo idea se sarebbe uscito al cinema, se sarebbe stato un direct to video da qualche parte, se l'avrei dovuto scaricare illegalmente e poi comprarlo in un secondo momento. Ci sono già così tanti tempi verbali, è così difficile starti dietro. Ho acceso Netflix e me lo sono trovato davanti. Allora, non è un film, non è un bel film, ma mi è piaciuto a sorpresa moltissimo e per una volta sarò costretto a fare ciò che Nick ama fare il 100% delle volte, ovvero parlare di una cosa senza parlare del suo contenuto per evitare spoiler di qualsiasi tipo. Ah ah! Allora, fondamentalmente se ne può parlare comunque perché il film di Dragon Quest, che cos'è? È Dragon Quest 5, che è il Dragon Quest migliore che sia mai esistito. Aspetta, scusa, ma che cos'è Dragon Quest? È una domanda seria a cui vuoi che risponda? Oh, era una gag, scusami. Ti stavo dando il trattamento lorro di quando inizio una recensione. Dragon Quest è la serie di giochi di ruolo più famosa. Non posso neanche dire Square Enix perché era nata quando Square Enix erano ancora due entità separate, ed è fondamentalmente la saga dei JRPG. Quindi ho risposto alla tua domanda, vaffanbrodo Nick, per provare ad avermi interrotto. Dannazione! Avendo fallito miseramente. Comunque, praticamente questo film è una versione ipercondensata di Dragon Quest 5, che era uscito per Super Nintendo nel 92 e poi un remake bellissimo. Che cos'è il 5? Per Nintendo DS a cavallo tra 2008 e 2009. Se avete un Nintendo DS, compratevelo perché è eccezionale. La battuta di Nick mi ha rotto. E questo film non è altro che la versione condensata di quella storia. Però capisci che 40 ore di gameplay, fitte comunque anche a livello di storia, condensarle in un'ora e 40 minuti di film, cosa ne può venire fuori? In cui un'ora e venti è la boss battle finale. Esatto. Praticamente. E poi c'è venti minuti di grinding in realtà. È bello perché c'è anche la parte di grinding, cioè nel senso non tralasciamo questo aspetto. Comunque non è rilevante. Allora, il character design che tipo mi incuriosiva mi ha fatto turbo schifo, però non perché non si è realizzato bene, ma è semplicemente un discorso di gusti personali. Sembra tipo un figlio illegittimo tra un tipo di espressività più da anime giapponese e una cosa alla più occidentale, tipo la Dragon Trainer o roba del genere. Non so, è strano il risultato. Sono molto carini tipo i design dei mostri, ma dei personaggi mi convincono zero. Comunque gusti, non è che non siano fatti bene. Ad ogni modo, il discorso cos'è? Non è veramente un film. Per i due terzi di questa cosa, chiamiamolo film per comodità, l'ho trovato una mezza ciofeca, l'ho guardato per super affetto verso Dragon Quest e Dragon Quest 5. Succede poi che verso la fine si riscatta in una maniera comunque inaspettata, ma serve che per farlo piacere, come è piaciuto a me probabilmente, devi avere dell'affetto o per Dragon Quest o nello specifico per Dragon Quest 5, altrimenti non ha senso vederlo. Cioè fa troppo riferimento a tutto l'affetto preesistente per la serie. Se tu non avessi mai visto o giocato niente di Dragon Quest e ti guardassi questa cosa, è oltre che dimenticabile, è totalmente trascurabile, è abbastanza una cosa meh. Quindi non ne vale tanto la pena, ecco. Ok, quindi ha senso solo e unicamente se sei un fan preesistente di Dragon Quest 5? Se sei un fan di Dragon Quest o nello specifico, più specificamente, di Dragon Quest 5, guardatelo e aspettate di guardarlo tutto, perché si riscatta in una maniera appunto molto inaspettata nel finale. Può piacere, può non piacere, però guadagna una sua ragione d'essere. Mentre invece tipo, cioè l'80% del film è veramente tipo... Poteva essere tipo un video promozionale di quelle cose che, sai, fanno uscire in Giappone perché là sono tipo tutti completamente pazzi per Dragon Quest. Ok. Ma come si chiama il film? Solo Dragon Quest? Dragon Quest Your Story. Ed è un libro game. Perché a un certo punto, spoiler, vedi che tu sei all'interno del film e ogni versione... E sei intrappolato nel televisore. Esatto. Potrebbe essere diventato già il mio film preferito, se ci sono io dentro. No, non è Dragon Quest, Bandersnatch o roba del genere, però ok. Guarda, è la prima volta che devo dare un... tipo due voti diversi per una stessa cosa. Perché se non avete interesse per Dragon Quest, si becca tre fette di pizza di una margherita di quelle che tipo prendi dal kebabaro e che le mansi e dici sì, ok. Era pizza. Niente di che, era pizza. Era cibo. Se avete un grande affetto o una grande passione per Dragon Quest 5, si può beccare anche con molta generosità sette fette di una buona margherita. Ok. Però è veramente... dipende tutto da quello, quindi insomma... guardatelo a vostro rischio e pericolo. Ok, ma tra l'altro io che non ho mai giocato a un Dragon Quest e conosco solo per fama la serie, ma che senso ha fare un film su Dragon Quest 5 se è appena uscito l'11? Tu hai presente che cos'è Dragon Quest in Giappone, vero? No, ovvio... so che... tipo perché un mio amico me l'ha detto in un podcast che ascolto, Power Pizza, per chi non l'avesse mai sentito, recensione 10 fette di pizza. Però mi hai detto che giustamente tipo c'è vacanza il giorno in cui esce Dragon Quest. Stiamo parlando di una cosa che, cioè, è praticamente dogma. Quindi credo che un film di questo tipo, e continuo a chiamarlo film facendo le virgolette, una cosa di questo tipo sia per lo più per un mercato nostalgico giapponese che ama Dragon Quest e nello specifico per Dragon Quest 5 stravede. Quindi, boh, immagino che... e poi a livello di storia, aspetta, ferma il tram, perché questo film è... ma Dragon Quest 5, il gioco, a livello di storia è una cosa incredibile. È una saga con la S e la A, la G e anche la A maiuscole. Tutte e due le A! È una cosa veramente fenomenale. Ma è come se tu, Nick, chiedessi, appunto, che magari Final Fantasy lo sai, lo conosci meglio, ma scusa, è uscito il 15 perché fanno il film del 7. E vabbè, però, cioè... Ma non stanno facendo il film del 7. No, l'hanno già fatto. Si chiama Crystal Chronicles. Advent Children. Advent Children. Esatto. Sì, esatto. Vabbè, quindi lo metto anche questo nella lista di cose che su Netflix le vedo mentre scorro Netflix e dico, oh, e basta. L'unica cosa che posso fare, visto che non posso consigliare a tutti questa cosa, posso invece consigliare a tutti giocate Dragon Quest 5. Se volete, su un emulatore, comprandovi la cartuccia originale per Super Nintendo, o molto più comodamente, la versione per DS, che è la versione definitiva dello stesso gioco. Sprite animati, bellissimi, il mondo tipo in 3D, però tipo dipinto a mano. È tutto molto bello, la storia è eccezionale, ed è uno dei migliori JRPG mai esistiti. Ancora oggi, nel 2020. Wow, ok. Troverete il link per scaricare la ROM illegale nel notte dell'episodio. Posso proporre una cosa che, siccome avete detto, scegli la tua storia, scelte multiple, io ho due cose di cui parlare oggi, ma voi sceglierete come andrà avanti il podcast. Mi piacciono le storie a bivi. Sì, assolutamente sì. Nell'opzione A, Sio va avanti e parla di un cortometraggio in bianco e nero. Nell'opzione B, invece, Sio parla di un libro. Suoni di Nick che prende paurissimo. A, tantissimo. A. Nick. A, ho detto A cento volte. L'altro è un libro, che domanda è? Va bene, ok. Allora, ho meno cose da dire su questo cortometraggio, ma ciao. Wow, è una situazione win-win. Esatto, abbiamo vinto tutti. Dannazione. Allora, la questione è questa. Mi sono guardato David... No, non mi sono guardato David. Ho guardato un film cortometraggio di David Lynch su Netflix, prodotto da Netflix. Cosa? Che si chiama What Did Jack Do? Che è una roba di 17 minuti in cui c'è un detective che interroga una scimmia sospettata di omicidio. Ok. Grazie David Lynch. Io ti odio David Lynch, solo che nessuna delle loro conversazioni ha nessun senso logico. Ora, ok, è David Lynch, però non è parte della trama che non abbia nessun senso logico, è solo l'effetto che ha avuto su di me. E posto che io sono stupido e non capisco niente, comunque mi è sembrato particolarmente che non si capisse una fava, anche considerando il fatto che è un cortometraggio di David Lynch. E vabbè, il detective è interpretato da lui e la scimmia è interpretata da una scimmia. Sì, il problema, il problema è che è una scimmia qui in post-produzione a uno stagista, gli hanno dato tipo tre ore e gli hanno detto appiccicaci la faccia di questo vecchio di centomila anni che parla molto lentamente. È una scimmia a cui hanno aggiunto, ovviamente, la bocca di una persona, solo che si vede che è fatto malissimo, ma è tipo fatto con 20 euro, è tristissimo. E vabbè, fanno solo discorsi vaghi, non rispondono alle domande l'uno dell'altro, uno chiede una cosa e poi l'altro, posso rispondere, parte con un aneddoto che non ha né capo né coda. Ok, fanno solo un milione di metafore, non si capisce niente, e solo verso la fine iniziano a discutere di cose più concrete, perché devono finire il cortometraggio e andare da qualche parte. Io ho solo una domanda, tu hai già visto altre cose di David Lynch, vero? Ho visto un po' di Twin Peaks, però... Ok, diciamo è l'unico contatto che hai avuto con Lynch. Sì, sì, sinceramente sì. So che comunque è famoso per le cose strambe e che non hanno spiegazione, ma questo particolarmente lascia il tempissimo che trovissima, nel senso che pure la fotografia fa schifo. Cioè, è un piano mezzo busto della scimmia e poi un contropiano di sempre mezzo busto di David Lynch, detective, mentre fanno botta risposta e è noiosissimo. Succedono... Wow, ma che brutto! Quanto dura questa cosa, scusami? 17 minuti e in questi pochi minuti, per fortuna, grazie al cielo, succedono due cose che introducono nuove emozionanti inquadrature, che però purtroppo durano pochissimo. Quindi potresti, mettiamola così, ti sentireste di consigliare questa cosa a qualcuno? Se volete essere confusi, sì. Se vi sentite troppo sicuri nella vostra quotidianità, provate della confusione. Se volete aggiungere delle cose che non hanno senso nella vostra vita e poi dopo averlo visto dite, ok, però io a metà ammetto che mi sono stufato e siccome Tito, Faraci, me l'aveva consigliato, mi ha detto, oh, ti piacerà un casino, fa riderissimo. Cosa non vera, non mi è né piaciuto né mi ha fatto ridere, però al posto di interromperlo, perché mi fidavo un po' di Tito, ho attivato il plugin proibito di Chrome, quello che accelera... Ah, maledizione. Accelera i video. Oh no. E vabbè, ho guardato i nove minuti che rimanevano in tipo cinque minuti a 1,6. Adesso viene fuori che in realtà tipo è profondissimo e ci sono delle sfumature importantissime. E' il motivo per cui Sio sta facendo questa recensione. È tutto nella mimica della bocca della scimmia. Tra l'altro mi sento di poterti offrire un'alternativa, perché casomai non aveste voglia di vedere questa cosa, vi potete guardare direttamente il video di Where's Your Head At dei Basement Jacks, che dura di sicuro meno di cinque minuti. E mi pare di capire, devo sparta dalle stesse premesse, non è assolutamente vero. È solo un bel pezzo. Mi piacciono i Basement Jacks. Ok. Io tra l'altro non pensavo mai nella vita, mi sarebbe stata regalata la possibilità di raccontare un trivia, un piccolo fun fact che viene portato da Savo. E ossia su come, all'interno dei film in cui ci sono le scimmie che devono parlare, come fanno a fargli muovere la bocca. Tirano dei calci negli stinchi. No, no, è che era la prima opzione, quella ovvia a cui tutti pensano. Gli mettono del cibo davanti alla faccia. No, gli danno del peanut butter da mangiare. E quindi fanno... Sbiascicano. E poi doppiano sopra. Wow. E beh, avrebbero potuto fare questa tecnica in questo film, invece hanno deciso di appiccicarci della bocca in post-produzione di un vecchio. Tra l'altro, trivia, che non è un trivia, però si nota chiaramente che nelle scene in cui c'è la scimmia, loro stanno tipo agitando qualcosa davanti alla telecamera per fare girare la scimmia da una parte piuttosto che dall'altra. E quindi, boh, boh. Ma è tipo, è un progetto domenicale di David Lynch. E' annoiato un pomeriggio e aveva una scimmia in casa. Cioè, così che la fa. Però sono contento che abbia convinto Netflix a dargli dei soldi. Nel senso, gli si vuole bene a David Lynch comunque. Sono contento che Netflix gli abbia dato dei soldi anche per una roba a casa. Vabbè. Però almeno il finale è bello perché finalmente smetti di guardare questo cortometraggio. Quindi gli darei un voto di due fette di pizza con l'uovo sopra. Perché è una pizza un po' sbagliata e dici perché l'uovo? Sì, è vero. Che bel voto, che bel voto sia il tuo voto. Perché è inibile. Però vabbè, io sono confuso. Se lo guardate lasciateci un commento criptico su powerpizza.it. Secondo me però adesso è tempo di introdurre un nuovo format dentro la powerpizza. Non credilo. Cosa? Cosa? Qualcuno gli tolga l'ukulele di mano. Per una volta l'ukulele non c'entrava. Succede che lo sponsor di questa puntata è la vergogna. Benvenuti nell'angolo di la pizza con l'ananas. Allora, che cos'è che l'oro odia di più? E qual è la sua crociata senza tempo? Sio. L'estate. Nick. No, no, entrambe le cose, ora che ci penso, ma un'altra è Smash Bros. Beh, indovinate chi ha iniziato a giocare a Smash Bros Ultimate. Cosa? Da tipo mezza giornata. Sì, io. Cosa? Cosa? Come hai avuto una copia di Smash Bros inviata per posta? Esatto. Mentre Sio finge stupore, ovviamente tipo il colpevole è lui. No, non è vero. Però in realtà dopo che ero stato io a chiederglielo, quindi non posso neanche dargli la colpa perché non è stata sua iniziativa la cosa. Ma è la stessa copia di Smash Bros Ultimate? Sì, era la tua, era quella che tu mi hai restituito. Esatto, perché Sio l'ha data meglio, ci ho giocato un po' e ho detto no, l'ho ridata a Sio. Perché io non ho vergogna, io ho solo orgoglio. Verosimilmente sarà anche quello che succederà a me. Il problema è che tipo, dopo aver visto quel documentario epico che aveva consigliato Sio in uno degli ultimi episodi, mi è tornato in mente quanto volessi bene a me lì cento anni fa. E ho detto, beh, quanto potrei essere diverso Ultimate? Viene fuori che io nel frattempo ho disimparato completamente. Tantissimo. Esatto, a giocare a Smash. Cioè, prima facevo schifo, adesso proprio non so giocare e confondo i tasti. E è una cosa terribile, drammatica. Ci giocherò per un po', poi mi renderò conto che no. Ma nel frattempo ci sto giocando. Chi stai usando come main? È la vera domanda. Allora, visto che tipo me l'ho preso super bene con il documentario su Angry Box, ma visto che non ho ancora sbloccato Jigglypuff, no, sto usando Kirby che comunque era tipo il mio, tra virgolette, main su me lì. Perché mi piaceva il fatto che tipo fosse un sacco floaty e mi piaceva da usare al tempo. Adesso lo trovo difficilissimo e ho visto che con Ryu mi trovo molto meglio in realtà. Anche perché Ryu si usa esattamente come in Street Fighter, quindi se sei abituato a Street Fighter. Esatto. No, è tutto così difficile. A me dispiace che non mi piaccia. Ah sì, no, capisco il sentimento, ma anch'io lo trovo esageratamente difficile. E boh, dovrebbe essere tipo un party game per tutta la famiglia, quindi probabilmente siamo io e te che siamo completamente inabili. Però boh... Esatto, è vero. No, la questione però non è quello, è che ci sono due giochi praticamente in Smash. C'è lo Smash competitivo e c'è lo Smash party, che hai tutti gli item attivi e giochi un po' a caso con i punti e non con le vite. E quello è più la modalità, diciamo, che è facile da approcciare. Solo che tu stai cercando di fare direttamente la seconda, che a me piace di più, quello competitivo. Sai che in realtà io sto trovando più difficoltà giocando con gli item attivi che non disattivi, nel senso che col fatto che riprendendolo in mano dopo una caterva di anni e non utilizzando il vecchio bell pad del Gamecube che comunque ho a casa e per cui mi comprerò un adattatore, ma utilizzando i due Joy-Con, proprio il movimento, sai, calcolare bene lo spacing e tutto quanto, lo trovo un po' arduo. Se sono solo io contro un avversario, anche con gli hazard attivi, è fattibile. Se ci sono oggetti e cose che continuano a succedere, mi incasina incredibilmente. Quindi adesso ho provato a disattivare gli item e sta effettivamente ingranando un pelo di più. Ok, beh sì, dipende da cosa vuoi fare. Il problema è che in Smash ci sono talmente tante modalità di gioco che può piacerti tantissimo uno e farti mega schifo il resto. E la modalità avventura è difficilissima! Sì, tra l'altro sì! Ci sono degli stage veramente super arduidi o bono. Ma hai provato invece la modalità spiriti? Ah, scusa, credo che sia quella, cioè quella che io chiamo avventura, credo sia la modalità spiriti. Ah, sì, 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 ok. Ah, forse non sei un grande esperto di Smash, Sio. No, perché c'è anche la modalità avventura che è una modalità diversa. Ah, what? Mentre ne parlavi ho controllato, sparate quali sono la top 3 di giochi che hanno venduto di più sulla Switch. Smash Bros, Ultimate Pokémon, Hollow Knight, Untitled, Goose Game, Mario Odyssey. Numero 1 è Mario Kart, che ha venduto tipo 23 milioni. Ovvio, ovvio, in realtà giusto. Mario Party forse? No, no, il 3 è Odyssey e il 2 è Smash. Cosa più di Zelda? No, Zelda è il 4, è il quarto. 16 milioni e rotti. Ah, ok, perfetto, va bene. Ci sta. Sì, però non credevo che avesse venduto così tanto Smash. E Super Cane Magic Zero invece? Non è boh, boh, mille copie. Non lo so. Beh, noi l'abbiamo comprata, quindi non puoi recriminare niente. Grazie, è vero. Grazie, amici. Tra l'altro l'abbiamo comprata entrambi, perché io l'ho comprata 200 volte. Tu quante volte l'hai comprata, Lorro? No, solo due in realtà. Vi voglio molto bene. Tra l'altro oggi, non c'entra di dito, ma mi sta arrivando da Amazon Giappone perché ho regalato l'ultima copia che avevo, un'altra copia di Cane Magico per Switch. Ho messo un'altra copia di Smash. Un'altra copia di Smash perché ho dato la mia terza copia a Lorro e ne devo avere sempre tre disponibili. Ok, grazie di aver portato Smash back into the pizza. Sì, tra l'altro è completamente inatteso questa rubrica della vergogna, questo power pizza all'ananas. È che Angry Box mi è piaciuto così tanto in quel documentario. È un tizio così tipo borbottone, ma in maniera giustificata e che si impegna così tanto. Sì, sì. E adesso lo seguo tra l'altro su YouTube e fa dei contenuti simpatici. Sì, io ho guardato qualcosa. L'altro giorno ha regalato un coupon per un toast gratis. E tra l'altro ha appena vinto i... come cacchio si chiamano? Sì, non so, un campionato. Ci sono un milione di campionati, però vince sempre. Ma sempre con Jigglypuff? Sì, lui è l'unico che tipo utilizza un solo main. Eh, ma non vale, ma lui non capisce. Perché cioè, è lentissimo Jigglypuff, non è giusto, non deve essere così. Posso fare un amaro velocissimo prima di finire? Sì, bello perché a Nick non è stata neanche data l'occasione di parlare in questo episodio. A parte che ha parlato di Fleabag & Core. Eh, che sfortuna, avevo così tante cose da dire e voi non me lo permettete mai. Se Nick ha parlato e tu hai parlato e io ho parlato, chi sta guidando Powerpizza? Crash. Scusa, è che era lì successo all'inizio dell'episodio, è passato un sacco di tempo da allora. Sì. Amarino, velocino, velocissimo. Ho visto solo una puntata perché è brutto, però mi faceva ridere il titolo e il trailer di Medical Police. Che è... Cosa? Cosa? Infatti, infatti il titolo è divertentissimo. Su Netflix c'è questa serie nuova comica, in cui ci sono dei medici che però fanno anche i poliziotti. Sì, sembra una premessa bellissima in realtà. Sì, però è noioso e dovrebbe far ridere e non far ridere, non mi è piaciuto. Non far ridere per le serie comiche effettivamente può essere un problema. È un po' un problema. Mettiamoli insieme. Qualcuno ha dato centinaia di milioni a questa persona. Ma è per questo che ne ho guardato una puntata e anche voi avete riso e avete detto Ah, che bella idea! Perché potrebbe essere stata un'idea ottima. Aspetta, onestamente io e Nick avremmo detto Ah, che bella idea a qualsiasi cosa perché siamo dei deficienti. Vero. Punto per Nick con i capelli. Ecco, niente, fine. Grazie per essere stati con noi anche oggi in una puntata in cui abbiamo parlato tutti Sia io che Nick che sia io a quanto pare E ce lo ricordiamo Ci trovate come al solito su www.powerpizza.it Oppure sul nostro account Instagram E powerpizza podcast 12211221166800999223 Chiamateci un euro e cinquanta alla scatola risposta e poi un euro al minuto Giuro, non so cosa sta succedendo Ah, è che mi sa che ho la febbre No, è che mi sa che ho la febbre Cioè, è tutto il giorno che tossisco e che ho la febbre Ok, anche io mi sento un attimo spossato Quindi finiamo con la puntata E ci sentiamo la settimana prossima, credo A meno che non succeda una cosa segreta Esatto, ok Ciao Ciao Un podcast veramente bellissimo Guarda, ve lo consiglio proprio Grazie Grazie